In una intervista al Corriere della Sera del Ministro Nordio, riaccende le polemiche sulla riforma della giustizia. L'Associazione Nazionale Magistrati attacca la separazione delle carriere, è un pericolo per la democrazia. Il guardasigilli ipotizza inoltre una modifica al concorso esterno in associazione mafiosa. Ma il sottosegretario Mantovano lo corregge, non è un tema in discussione e anche Salvini lo stoppa. Patto di stabilità, PNRR e aiuti all'Ucraina sono i temi in discussione nella riunione dei Ministri delle Finanze dell'Unione Europea, oggi a Bruxelles. Il commissario Gentiloni ha rimarcato come i tempi sulla riforma del patto di stabilità siano ormai serrati, mentre sulle risorse del PNRR ha spiegato che la sfida è riuscire ad unire gli investimenti alle politiche di bilancio che, in particolare per alcuni paesi, devono rimanere prudenti. Dopo lo sciopero dei treni di ieri, si prospetta un sabato di passione per chi deve volare. Dalle 10 alle 18 di domani si fermerà il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in. Incroceranno le braccia con orari differenti anche i piloti di Malta Air e i piloti e gli assistenti di volo di Welling. A causa dello sciopero, Ita Airways ha cancellato 133 volti. Un rapporto del Pentagono rivela che il gruppo Wagner non è più una forza combattente attiva in Ucraina, anche se i suoi uomini sono ancora in larga parte fisicamente presenti nelle zone occupate dalla Russia. E mentre il presidente russo dichiara in un'intervista che il gruppo Wagner non esiste, Kiev annuncia l'abbattimento la notte scorsa di 16 dei 17 droni kamikaze lanciati dalle forze russe nel paese. Scoperto per caso nel 1965 ed entrato in commercio una decina gli anni dopo, l'aspartame è utilizzato oggi da 200 milioni di persone nel mondo. Ora l'OMS lancia l'allarme sui rischi di questo dolcificante sintetico, già molto discusso in passato, dichiarandolo potenzialmente cancerogeno per l'uomo. Dall'Organizzazione Mondiale della Sanità però nessun divieto ma la raccomandazione a ridurne il consumo giornaliero. La capitale mondiale del cinema è rivolta per lo sciopero degli attori che si uniscono alla protesta iniziata a maggio degli sceneggiatori. Saltato l'accordo con gli studios, ora sono a rischio film, serie tv e festival. Anche le grandi stare sul piede di guerra per chiedere aumenti salariali e tutele sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale che potrebbe sostituirli a scapito della qualità dei prodotti cinematografici. E' il giorno più importante nella carriera di Yannick Sinner, l'italiano gioca oggi la sua prima semifinale di uno slam sull'erba di Wimbledon contro Djokovic. Alcarazze, Medvedev, l'altra semifinale. Per il calcio la Juventus volta pagina, addio alla Superlega e Leonardo Bonucci. Il difensore non rientra nei progetti tecnici bianconeri ed è stato messo fuori rosa. Buongiorno e bentrovati a tutti voi. Dunque ieri pomeriggio c'è stato l'incontro tra Giorgia Meloni di ritorno dalle vertice di Vilnius e con il presidente Mattarella al Quirinale dopo il Consiglio Superiore di Difesa. Un colloquio che è durato un'ora nel quale si è affrontato soprattutto il tema della giustizia, in particolare la riforma Nordio sullo sfondo, le polemiche, lo scontro delle ultime settimane tra il governo e una parte delle toghe. Una riforma che attende il via libera del presidente Mattarella per l'invio alle Camere. E in una intervista questa mattina al Quotidiana, al Corriere della Sera, il guardasigilli difende la sua riforma e spiega perché vorrebbe eliminare il concorso esterno in associazione mafiosa. Cominciamo da qui. Cordiale e costruttivo. Oltre ai due aggettivi non è filtrato molto di più dal tanto atteso faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e Giorgia Meloni a margine del Consiglio Supremo della Difesa. Un colloquio di un'ora a tutto campo dove ha trovato molto spazio il delicatissimo tema della giustizia. All'ordine del giorno c'è la riforma Nordio che è in arrivo in Parlamento ma sullo sfondo anche le tensioni con una parte della magistratura. Da Palazzo Chigi si parla di un incontro senza tensioni, lo stesso dal Quirinale. Rassicurazioni convergenti, quasi contemporanee. Al centro dell'incontro anche i ritardi sul PNRR e il sostegno all'Ucraina. Ma la riforma della giustizia è la questione più delicata al momento per evitare un cortocircuito istituzionale tra Quirinale, Palazzo Chigi e la magistratura. Al Quirinale si spera che il disegno di legge Nordio sia riveduto e corretto perché presenta alcune criticità che cozzano con i trattati internazionali di rilevanza costituzionale in particolare l'abolizione dell'abuso di ufficio e del traffico di influenze. Nel frattempo il clima da guerra fredda tra il Ministro della Giustizia e l'Associazione Nazionale dei Magistrati prosegue. Nordio rilancia stamattina in un'intervista al Corriere della Sera sulla separazione delle carriere. Esiste in tutto il mondo e non mina affatto l'indipendenza della magistratura requirente. Ribatte, parlando di pericolo per la democrazia, il Presidente dell'Associazione dei Magistrati Giuseppe Santa Lucia. Fare dell'azione penale, un'azione discrezionale e poi certamente prima o poi sotto il controllo politico è una cosa pericolosa per la democrazia e il suo atto di accusa. C'è poi un altro fronte rilanciato da Nordio recentemente. La volontà di modificare il reato di concorso esterno da associazione mafiosa. Parlo a titolo personale, dice Nordio nell'intervista. È una norma che non funziona. Il concetto di concorso esterno è uno simoro. O si è esterni e allora non si è concorrenti, o si è concorrenti e allora non si è esterni. Idea è stoppata subito dal sottosegretario alla Presidenza, Alfredo Mantovano. Ex magistrato anche lui. Non è un tema in discussione. Il Governo non farà alcun passo indietro nella lotta alla criminalità organizzata. Ci sono altre priorità. Il concorso esterno è un'associazione mafiosa. È il reato per il quale era stato condannato Marcello Dell'Utri. Ora è indagato dalla Procura di Firenze nell'ambito dell'inchiesta sulle stragi del 1993. È un nuovo caso che agita il dibattito politico dopo quelli che riguardano il sottosegretario del Mastro, il figlio del Presidente del Senato, Ignazzo Larousse, e la Ministra del Turismo Santanchè, che ieri ha ribadito. Non lascerò il mio posto. La Ministra Santanchè è venuta in aula a dire delle cose false. Noi abbiamo già fatto un'interrogazione che ha svelato un debito di 2,7 milioni che la Ministra al Senato non ha negato. Il PD continua a chiederne confermezza le dimissioni. Conte e la segretaria Deme Schlein continuano il pressing sulla Premier per chiedere un passo indietro della Ministra del Turismo Santanchè, richiesta già respinta al mittente. Perché sulla giustizia non è solo il dibattito sulla riforma nordia ad agitare la maggioranza, ma anche le note vicende che riguardano sia la Ministra Santanchè che il sottosegretario del Mastro e il Presidente del Senato Larussa. La stessa Santanchè ieri è tornata a parlare in pubblico. Nessun passo indietro. Querele eroi, giornali che dicono falsità su di me, le sue parole. In suo soccorso anche il leader di Forza Italia Tajani. Nessun imbarazzo tra i colleghi di governo. E sui contenuti ci affidiamo alla magistratura. Più netta Meloni è stata invece sul caso del Mastro. L'anomalia è un giudice che smentisce un PM e riferimento all'imputazione coatta stabilita dal GIP, nonostante la richiesta d'archiviazione del PM per il caso Donzelli Cospito e l'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio. Meno rigida è invece la difesa delle parole usate dalla russa in difesa del figlio sul caso del presunto stupro di una coetanea. Io non sarei intervenuta, tendo a solidarizzare per natura con una ragazza che denuncia, aveva detto Meloni. Novità dell'ultima ora del caso, l'impossibilità di sequestrare la scheda del telefono del ragazzo perché è intestata al padre. Ad agitare ulteriormente le acque della politica, rimanendo alle aule giudiziarie, anche il nuovo caso dell'Utri, perquisiti dalla DIA, abitazione e uffici dell'ex senatore azzurro su disposizione dei PM di Firenze, alla ricerca di quelle prove inseguite per anni per dimostrare il disegno politico mafioso attuato dal sodale di Berlusconi per favorire l'ascesa di Forza Italia grazie alle stragi del 93 di Firenze-Milano-Roma. Ipotesi surreali e reali dicono i legali di Berlusconi, con Forza Italia che annuncia un'interrogazione a Nordio. I magistrati vadano avanti e aspettiamo gli sviluppi dell'inchiesta, la linea del PD con Berini. Mentre Renzi attacca la procura fiorentina, insegue la visibilità mediatica dei processi politici, mai vista una procura più delegittimata e squalificata, inseguono il fantasma di Berlusconi e non toccano il racket delle occupazioni abusive, conclude l'ex Premier. E la Commissione europea ha annunciato questa mattina che la Presidente von der Leyen, Giorgia Meloni e le Premier di Missionario olandese Mark Rutte saranno nuovamente a Tunisi domenica prossima per un altro incontro con il Presidente Sayed. Al centro dei colloqui, il memorandum d'intesa con il Paese africano, assistenza economica in cambio di un accordo per cercare di limitare i flussi migratori. E secondo quanto si apprende da fonti europee, nel dettaglio la parte più semplice di questo accordo prevede un finanziamento di 105 milioni di euro contro il traffico di esseri umani e 150 milioni di euro per il sostegno immediato al bilancio del Paese. Più complicato invece il via libera al prestito da 900 milioni di euro per l'assistenza legata ad un accordo con il Fondo Monetario Internazionale che il governo tunisino fatica a raggiungere. Il tema degli aiuti invece all'Ucraina è stato al centro del vertice dei ministri finanziari dell'Ecofin che è cominciato oggi a Bruxelles. Ma in primo piano c'è soprattutto la riforma, la questione appunto della riforma del patto di stabilità, il fattore tempo è fondamentale per trovare un accordo entro la fine dell'anno ha detto il commissario Gentiloni che parla anche delle sfide delle PNRR in particolar modo per quei Paesi che hanno un debito alto. La riforma del patto di stabilità, i piani nazionali di ripresa e resilienza, gli aiuti all'Ucraina sono questi i tre temi che stamattina si trovano sul tavolo a Bruxelles i ministri delle finanze dell'Unione. Difficile dare una scala di importanza a queste tre tematiche che tutto sommato si incrociano e a volte l'una dipende dall'altra. La riforma del patto di stabilità e la riscrittura delle regole di base delle finanze degli stati, i famosi rapporti debito PIL e deficit PIL congelati dopo la pandemia, oltre ai piani di rientro da debito e deficit eccessivi. La Commissione ha fatto una proposta, la presidenza spagnola dell'UE punta ad avere una sintesi delle posizioni per il Consiglio Ecofin di ottobre. La materia riguarda tutti, ma in particolar modo l'Italia. Nel giorno in cui la Banca d'Italia certifica che il nostro debito pubblico ha raggiunto l'ennesimo record, a maggio è salito ancora a 2.816 miliardi di euro, il commissario agli affari economici Gentiloni ha collegato la corretta spesa dei fondi post-pandemia, per i quali è in corso un braccio di ferro con l'Italia, alla riduzione del nostro fardello debitorio. Credo che sia molto chiaro che in una fase in cui dobbiamo avere politiche di bilancio prudenti, ha detto, i paesi, soprattutto quelli ad alto debito, possono associare a politiche di bilancio prudenti questi fondi che consentono spazio per investimenti. Lì è la sfida per il PNRR. Ma uno dei temi destinato a diventare cruciale nei prossimi mesi, se non anni, è quello dei soldi destinati all'Ucraina. In attesa di capire se e quando a guerra finita il paese entrerà nell'Unione Europea, Bruxelles dovrà disegnare il suo prossimo bilancio in maniera da trovare e ripartire tra gli stati i costi per gli enormi esborsi che occorreranno per la ricostruzione del paese. Soldi che non verranno dati a pioggia o sulla fiducia, ha fatto capire il commissario Dombrovskis. Per ricevere l'assistenza macrofinanziaria di 50 miliardi di euro nei prossimi quattro anni, ha precisato, l'Ucraina dovrà preparare il piano di ricostruzione sia con investimenti che riforme, anche quelle legate alla futura integrazione nell'UE. Da queste riforme dipenderanno gli esborsi. Torniamo in Italia perché domani sarà un'altra giornata di sciopri nel settore dei trasporti. Dalle 10 alle 18 si ferma il personale degli aeroporti. I sindacati chiedono il rinnovo del contratto che, a quanto appunto dicono i sindacati, è fermo da sei anni. Sarà probabilmente un'altra giornata di disagi dopo lo sciopero di ieri che ha interessato il personale di Trenitalia e di Italo. Uno sciopero che, ricordiamo, è stato dimezzato dalla precettazione del ministro Salvini, che nel frattempo chiarisce che non abbiamo cancellato il diritto dello sciopero, però contro questa decisione si è schierata la CGL che ha fatto ricorso al TAR. Mille voli nazionali e internazionali e oltre 270 mila passeggeri a rischio. Le attuali stime relative lo sciopero aeroportuale annunciato per sabato promettono un'altra giornata complicata per i viaggiatori, dopo un giovedì segnato dallo stop dei treni. La durata dell'agitazione sarà inferiore rispetto a quella che ha coinvolto le ferrovie, per la precisione 8 ore tra le 10 e le 18, ma non per questo meno sentita. ITA Airways, l'ex Alitalia, ha già comunicato di essersi vista costretta a cancellare 133 voli di linea e di aver attivato un piano straordinario per garantire un biglietto nell'arco della stessa giornata ad almeno il 40% dei passeggeri. La mobilitazione coinvolgerà il personale di terra, del handling e dei servizi di check-in, oltre ai piloti e gli assistenti di volo di Whaling e, tra le 12 e le 16, di Malta Air, compagnia che opera i voli di Ryanair. Al centro della protesta dei sindacati di categoria c'è il rinnovo del contratto, scaduto da sei anni ritenuto insoddisfacente da Filt CGL, Will Trasporti e UGL Trasporto Aereo. Non arriverà in quest'occasione la precettazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come avvenuto con lo sciopero dei treni. La decisione autonoma del Ministro Salvini di dimezzare la durata della protesta, oltre a suscitare l'indignazione delle opposizioni, aveva portato a ricorso da parte del segretario generale della CGL, Landini. Ricorso però respinto già questa mattina, con un decreto cautelare monocratico del Tar del Lazio, che ne ha fissato il 4 settembre prossimo l'udienza in Camera di Consiglio per la trattazione collegiale. Intanto il MIT cerca di ritrovare la strada del dialogo. Salvini continua a predicare buonsenso. Un tavolo con lavoratori e aziende del settore aeroportuale è stato convocato settimana prossima. Le notizie sulla guerra in Ucraina. Il Pentagono ha confermato la consegna delle contestatissime bombe a grappolo, che Kiev però ha rassicurato che non saranno utilizzati sui civili. Intanto il gruppo Wagner non combatte più in Ucraina, continua a spiegare il Pentagono, ma De Mercenari ha parlato per la prima volta anche il presidente russo Putin dopo l'incontro che ha avuto con Prigogine nel giugno scorso. Sul campo intanto Kiev ha annunciato l'abbattimento nella notte di 16 dei 17 droni kamikaze che erano stati lanciati sul paese da Mosca. La Wagner non è più una forza combattente, attiva in modo significativo in Ucraina, parola del Pentagono, che nel suo ultimo rapporto aggiunge i mercenari però sono ancora in larga parte fisicamente presenti nelle zone ucraine occupate dalla Russia. Il mistero rimane quindi sul ruolo che gli accordi tra Prigogine e Putin riserveranno a quella che di fatto è stata la forza dietro all'unica affermazione importante della Russia nella seconda fase della guerra, la conquista di Bakhmut. E intanto ieri lo stesso Vladimir Putin durante un'intervista ha parlato del suo incontro con il leader ribelle al Cremlino lo scorso 29 giugno, pochi giorni dopo il tentativo di golpe. Ha confermato Putin che al Cremlino Prigogine è andato accompagnato da 35 dei suoi capi militari, ai quali è stato offerto di continuare a combattere inquadrati nell'esercito, ma restando sotto gli ordini del loro ufficiale di riferimento. Alcuni avrebbero accettato, altri no. E comunque ufficialmente la Wagner non esiste, ha proseguito Putin. La legge russa infatti non prevede l'esistenza di formazioni militari privati. Ciò non toglie che lo stesso Putin abbia pubblicamente ammesso che lo Stato russo ha pagato fiumi di denaro alla formazione di Prigogine negli ultimi anni. E oggi il Cremlino annuncia la possibilità di cambiare la legislazione. Le bande armate e private potrebbero diventare perfettamente legali. Sul campo intanto l'Ucraina rivendica una lenta avanzata nella zona sud di Bakhmut e di aver abbattuto 16 dei 17 droni lanciati nella notte dalle forze russe. E da Washington arriva la conferma che sono state consegnate le prime forniture di bombe a grappolo. Armi contestatissime ma che secondo Kiev saranno indispensabili per rafforzare quella controoffensiva che finora non sembra aver raggiunto gli obiettivi sperati. Ma più importanti forse nelle ultime ore sono stati segnali dall'interno della Russia stessa. Droni hanno colpito senza danni rilevanti le località di Voronez e di Kurchatov, entrambe vicine a installazioni nucleari. Non è chiaro se i droni provenissero dall'Ucraina o dall'interno della Russia stessa. E oggi in Francia si festeggia la festa nazionale. Si temeva che riesplodessero le violenze che abbiamo visto le settimane scorse dopo la morte, l'uccisione da parte di un poliziotto, di un giovane a Nanterre. In realtà la notte scorsa ci sono stati meno incidenti rispetto allo scorso anno. Questa mattina sugli Champs-Élysées si è svolta la tradizionale parata militare e non sono mancati i fischi e all'indirizzo del presidente francese Macron. È un 14 luglio di celebrazioni in Sordina in Francia. La tensione resta alta dopo che a fine giugno un ragazzo di 17 anni è stato ucciso a Nanterre da un poliziotto e si vogliono evitare nuovi episodi di violenza. A Parigi le celebrazioni sono blindate, 10.000 agenti sono presenti nella capitale e per ragioni di sicurezza il presidente non ha tenuto alcun discorso, si è limitato agli auguri sui social. Le contestazioni però sono arrivate lo stesso durante la tradizionale parata militare. Invitato d'onore quest'anno il premier indiano Nerendra Modi, accanto al presidente francese nella parata con 6.500 partecipanti tra aerei, elicotteri e mezzi blindati. Al presidente indiano Macron ha conferito la gran croce della legione d'onore. Ieri il ministro della difesa indiano ha annunciato l'intenzione di acquistare dalla Francia altri 26 caccia e 3 sottomarini, un accordo del valore di miliardi di euro. Il piano di sicurezza per le celebrazioni del 14 luglio resterà in vigore fino alle 15 di domani. 130.000 gendarmi sono complessivamente dislocati nelle zone più a rischio del paese. La notte scorsa ci sono stati ancora episodi di violenza, macchine bruciate e arresti, ma in misura decisamente inferiore rispetto ai giorni scorsi. Adesso andiamo a Hollywood per parlare di uno sciopero clavoroso perché da oggi si sono fermati gli attori appunto di Hollywood per unirsi alla protesta che sta andando avanti da alcuni mesi degli sceneggiatori. Si tratta del primo sciopero di categoria dal 63 anni. Sono due sostanzialmente i motivi dello sciopero, la retribuzione e poi soprattutto la minaccia che è rappresentata dalla intelligenza artificiale. Uno sciopero che ha già avuto delle ripercussioni a Londra ma probabilmente avrà anche delle ripercussioni molto forti sui festival che forse non ci saranno. Hollywood si ferma da oggi per lo sciopero degli attori e la maggior parte delle produzioni di cinema e tv ora è a rischio. Il principale sindacato degli attori americani, la Screen Actors Guild, che rappresenta 160.000 volti più o meno noti, ha abbandonato le trattative con i produttori e le piattaforme di streaming sul nuovo contratto. La SAG chiede paghe più alte e assicurazione sanitaria per tutti, condizioni migliori di lavoro e garanzie che l'intelligenza artificiale non finisca per rimpiazzarli replicando le loro facce e le loro voci. Non possono trattarci così? È incredibile, si è lamentata la presidente, l'attrice Fran Drescher. A Londra ieri sera il cast del film ha abbandonato la presentazione di Oppenheimer. In testa Matt Damon, se si sciopera ce ne andiamo, aveva anticipato sul red carpet. Il regista Christopher Nolan ha aggiunto che sarebbero andati a preparare i cartelli di protesta. Sono previsti nel pomeriggio italiano altri picchetti in California davanti alle sedi, tra gli altri di Netflix, Amazon, Disney, Paramount e Warner Bros. Sui social è arrivato il supporto di varie star. Lo sciopero degli attori si aggiunge a quello degli sceneggiatori, iniziato a maggio. Il sindacato dei produttori, la Alliance of Motion Picture and Television Producers, li ha criticati per aver scelto lo scontro. La controproposta di retribuire la versione digitale dell'immagine e della voce degli attori e di garantirne un uso appropriato è stata rispedita al mittente. Ci pagherebbero una volta sole e la userebbero all'infinito e l'accusa, anche perché le piattaforme di streaming non collaborano sui numeri. Finché dura lo sciopero, gli attori di Hollywood non faranno riprese né promozione. Potrebbero risentirne megaproduzioni in corso, come i nuovi film di Avatar, Wonder Woman e dei Re Leone e le nuove stagioni di serie televisive come Chicago Mad, NCIS e i Simpsons. Una situazione del genere non si vedeva dal 1980. Quella volta si protestava per la ripartizione dei profitti generati da una novità, le videocassette. Lo sciopero degli attori durò 10 settimane con perdite enormi per il settore e il suo indotto. Veniamo adesso alla decisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha consigliato di moderare l'uso dell'aspartame, un dolcificante artificiale che si trova comunemente in migliaia di prodotti perché è possibilmente cancerogeno per l'uomo. Dal punto di vista pratico non cambierà nulla per i cittadini perché i prodotti che contengono l'aspartame non saranno ritirati. L'agenzia Reuter aveva anticipato la notizia. Il tam-tam sui social è stato confermato. L'aspartame, il dolcificante sintetico, presente in numerose bibite, light, dolciumi, snack, gomme da masticare e in più di 600 farmaci è stato considerato potenzialmente cancerogeno per l'uomo. A stabilirlo è l'Agenzia Internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la ricerca sul cancro, ma le conferme sono arrivate anche da un comitato congiunto di 25 esperti dell'OMS e della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura sugli additivi alimentari. Dal suo arrivo sul mercato a partire dagli anni 80 non sono mai mancate le polemiche sui rischi per la salute. I limiti di assunzione giornaliera sono stati lasciati inalterati, 40 mg per chilo di peso corporeo. Dunque nessun allarme, ma una richiesta di un consumo consapevole e moderato. Non stiamo consigliando alle aziende di ritirare i prodotti, né ai consumatori di smettere del tutto di consumarli, ha affermato Francesco Branca, direttore della nutrizione e della sicurezza alimentare dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Stiamo solo consigliando un po' di moderazione. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro aveva effettuato una prima analisi tra il 16 e il 13 giugno scorso a Lione. Sono stati evidenziati attraverso test possibili legami con il cancro al fegato per un consumo eccessivo del dolcificante ed era stato inserito nel gruppo 2B, nel quale si trovano sostanze come l'estratto di aloe vera e l'acido caffeico presenti nel tè e nel caffè. Il comitato congiunto si riunisce a Ginevra dal 27 giugno al 6 luglio e conferma la dose giornaliera accettabile stabilita dal 1981, 40 mg di aspartame per kg di peso corporeo per l'appunto. Il comitato ha quindi ribadito che entro limiti del consumo giornaliero non ci sono rischi per la salute. Ad esempio con una lattina di bibita dietetica contenente 200-300 mg di aspartame, un adulto del peso di 70 kg dovrebbe consumare più di 9-14 lattine al giorno per superare l'assunzione giornaliera accettabile. L'OMS consiglia di limitare comunque il consumo di prodotti dolcificanti, di preferire le bibite gassate e l'acqua alternative senza zuccheri liberi. Raccomandazioni importanti soprattutto per i bambini. La presenza dell'aspartame in numerosi prodotti alimentari di tipo industriale genera un business da 12 miliardi di euro nel mondo. E tra i fatti del giorno anche la protesta dei pescatori italiani contro le norme europee che limitano la pesca strascica è considerata una delle attività più diffuse ma anche più dannose per i fondali marini. Con questo modo si apre il mercato del pesce che arriva dall'estero senza controlli e la denuncia dei pescatori italiani. Salviamo la pesca italiana! Salviamo la pesca italiana! L'Europa uccide la pesca italiana. Tutti inquinano, la colpa è solo dei pescatori. Con questi slogan i pescatori italiani si sono mobilitati sotto le insegne della Coldiretti. A decine hanno protestato al molo di San Benedetto del Tronto, provincia di Ascoli Piceno, uno dei più importanti scali pescherecci italiani. Nel mirino della protesta le nuove politiche europee che vogliono limitare di molto la pesca strascico, vietandola nelle aree marine protette e tagliare fino al 30% le aree di pesca. C'è già un piano presentato a febbraio dal commissario europeo alla pesca e all'ambiente da mettere in atto gradualmente entro il 2030 a partire dal prossimo anno. La pesca strascico è ritenuta troppo inquinante e interferisce in modo invasivo con l'ecosistema, impoverendo i fondali e mettendo a rischio specie come squali, razze e tartarughe. Le nuove norme replicano gli addetti, produrrebbero un boom di importazioni con meno garanzie per la salute, sparirebbero tutte le ricette tipiche e soprattutto il settore finirebbe in ginocchio. Coldiretti parla di 3.000 pescherecci affondate metaforicamente, anche perché le regole non sarebbero uguali per tutti. Le direttive molto stringenti europee metterebbero i nostri pescatori in una condizione di concorrenza assolutamente sleale nei confronti di altri loro colleghi, soprattutto dell'area mediterranea. Non sacrificheremo gli interessi dei nostri asset produttivi, spiega il ministro per l'agricoltura e la sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, che si è schierato a fianco dei pescatori. Intendiamo partire con un ragionamento che ci metta nella condizione di garantire la sostenibilità ambientale, ci mancherebbe altro e i nostri pescatori da questo punto di vista sono un'eccellenza come i nostri agricoltori, i nostri allevatori, ma dall'altra garantire la sostenibilità anche dal punto di vista economico, perché è una nazione che si impoverisce, non è un grado di aiutare nemmeno i più deboli e noi intendiamo farlo. Oggi, secondo i dati Coldiretti, la pesca strascico frutta il 35% del pescato nazionale. In tre anni sono già scomparsi il 33% delle imprese e 18.000 posti di lavoro. Il settore sta lavorando molto per preservare le risorse su tecniche di pesca più sostenibili. E all'orizzonte c'è la produzione di pesce sintetico, già sperimentata in Germania con i primi bastoncini creati in laboratorio. E salgono a quattro gli indagati per il rogo nell'RSA che nella notte tra il 6 e 7 luglio scorso ha causato la morte di sei anziani, iscritti anche due dirigenti delle comune, il direttore del welfare di Palazzo Marino e il responsabile dell'area residenzialità anziani e persone con disabilità. L'ipotesi di reato sono omicidio, lesioni colpose, plurime incendio. Nei primi giorni della settimana prossima verranno effettuate le autopsie alle quali potranno partecipare eventualmente i consulenti nominati dagli indagati. E sempre per la cronaca, dopo aver trascorso 16 anni e 8 mesi in carcere per l'omicidio della fidanzata Antonella Multarichi, cui inflisse 44 coltellate, Luca Delfino sarà trasferito dal carcere alla residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza di Genova, Pra, dove dovrà rimanere altri sei anni e mezzo perché è socialmente pericoloso. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza che ha invece respinto il ricorso dell'ex barman di Sanremo contro negazione della revoc anticipata dal carcere a causa di comportamenti molesti verso un vicino di Cella. Ora nella Rems ex ospedale psichiatrico potrà essere sottoposto a cure che non ha mai ricevuto in carcere e fa sapere i legali di Delfino. I residenti della zona sono però preoccupati per il pericolo di fuga, la struttura infatti priva di sbarre. E adesso parliamo della sentenza che dopo quasi 24 anni ha fatto luce sulla morte del Parà Emanuele Sceri nella caserma Gamerra di Pisa nell'agosto del 1999. Due ex commilitoni sono stati condannati per omicidio volontari in concorso. Sceri non cadde da solo dall'attore di lancio ma secondo i giudici fu vittima di un terribile episodio di nonnismo. È arrivata dopo 24 anni la sentenza che condanna due commilitoni per la morte del Parà della Folgore Emanuele Sceri per omicidio volontario. La Corte d'Assise di Pisa ha condannato i due ex caporali Alessandro Panella e Luigi Zabara rispettivamente a 26 e 18 anni di carcere. Non fu suicidio né un incidente ma la morte di Emanuele Sceri fu un delitto conseguente di crudeli atti di nonnismo. Il paracadutista 26enne neolaureato in giurisprudenza arrivato il 13 agosto del 99 nella caserma Gamerra di Pisa scomparve la sera stessa dell'arrivo. Il suo corpo venne ritrovato solo tre giorni dopo ai piedi di una delle torri di lancio. I due ex caporali Panella e Zabara finirono sotto inchiesta nel 2018 dopo che la procura di Pisa riaprì le indagini a seguito del lavoro della Commissione parlamentare che nel 2017 escluse che Sceri si fosse suicidato. Il corpo dell'allievo venne nascosto, si legge negli atti. In base alla ricostruzione della procura di Pisa, quella sera del 13 agosto di 24 anni fa Emanuele venne picchiato, spogliato e costretto a salire su una delle torrette dove gli imputati avrebbero continuato a colpirlo con pugni e calci finché non precipitò a terra. Se due militari avessero dato l'allarme forse Emanuele avrebbe potuto salvarsi ma lo lasciarono lì ferito preoccupandosi solo di occultarne il corpo. La sentenza era attesa lo scorso 14 giugno ma la Corte aveva rinviato il verdetto decidendo di ascoltare tre nuove testi dell'accusa. Testimonianze rilevatesi determinanti. Le tre donne amiche di un paracadutista a distanza in caserma quell'agosto del 99 hanno riferito che il militare aveva loro confidato di aver visto gli imputati in caserma svegli ancora a tardanotte agitatissimi e preoccupati per qualcosa di grosso. Agli investigatori il parà riferì anche di essere stato minacciato da uno dei due. Finalmente il muro di gomma è caduto, volevamo la verità, ed oggi è arrivata, ha commentato il fratello di Emanuele. La Corte ha disposto che il Ministero della Difesa e i due ex caporali dovranno risarcire la famiglia Asceri con una provvisionale di 350 mila euro. La Difesa ha annunciato che ricorrera in appello mentre la Procura ha già fatto ricorso contro l'assoluzione di un terzo sotto ufficiale, Andrea Antico, che aveva deciso di farsi giudicare nel 2021 con rito abbreviato. Adesso ci fermiamo subito dopo la pubblicità, torniamo con la pagina sportiva, in primo piano il calcio mercato, ma soprattutto Wimbledon. Tra poco. Siamo alla pagina sportiva, in primo piano il calcio mercato e addi che fanno rumore. In casa Juve, alla vigilia della tournée americana, si consumano due addi di diversa natura. Il club bianconero in un colpo solo saluta Bonucci e dice definitivamente addio alla Superlega. Unilaterale il distacco dall'ex capitano e bandiera della Juve dopo 12 stagioni, 502 partite e 35 reti. Allegri ha deciso Giuntoli, glielo ha comunicato senza fronzoli. Bonucci ha un altro anno di contratto e si allenerà da solo sperando di trovare un'altra squadra. In attesa della sentenza UEFA sul fair play, un anno senza coppe, il club volta pagina ed esce ufficialmente dalla Superlega. La società creata da Andrea Agnelli insieme al Real Madrid di Florentino Perez però esiste ancora e prevede pesanti penali. Continua intanto l'assalto saudita ai top player della Serie A. 15 milioni di euro a stagione più bonus per Ciro Immobile che però rifiuta l'offerta per restare alla Lazio da protagonista e cancellare la sfortunata scorsa stagione. Sirene arabe dell'Al Ali per Zilischi e Lozano ai quali il presidente del Napoli dell'Aurentis ha dato l'ultimatum o accettano il rinnovo con taglio dello stipendio o via subito. Il polacco è tentato da un milione di euro al mese per tre anni. Sei milioni a stagione per tre anni è invece la proposta dello stesso club a Romanista Spinazzola. Sempre in casa Roma Mourinho ha fretta di definire il reparto d'attacco. Adesso il testa a testa è Scamacca-Morata. Per entrambi la formula sarebbe il prestito con diritto di riscatto. Al momento le cifre, soprattutto quella del West Ham, sono troppo alte ma l'unidì prossimo dovrebbe partire l'assalto finale all'Atletico Madrid per Morata. È un passo dall'intesa tra Inter e Manchester United per il portiere Andre Onana per un trasferimento da 50 milioni. 35 saranno subito rinvestiti per chiudere finalmente la vicenda a Lukaku. L'attaccante è fermamente deciso a restare a Milano. Lunedì l'incontro decisivo col Chelsea a Londra. Dopo Pulisic il Milan aspetta Reinders, centrocampista olandese della Zeta. Offerta ferma 20 milioni richiesta, poco sotto i 25. Ma come dicevamo, oggi è il giorno delle semifinali di Wimbledon. Yannick Sinner affronta Djokovic. Nell'altro incontro invece lo spagnolo Alcarazela se la vedrà con il russo Medvedev. Hanno la stessa altezza, un metro e 88 centimetri e un po' si assomigliano nel modo di giocare perché il loro tennis non è solo questione di braccio e anche testa strategia. È stato Nole Djokovic a sottolinearlo qualche tempo fa. Rivedo un po' messesso in Yannick. Il rovescio a due mani da fondocampo, ma anche la pressione asfissiante sull'avversario e la mia. Sì, è lui quello che mi assomiglia di più. Quando glielo riferirono, Sinner rispose con ironia. Dite che io e Nole ci assomigliamo. In effetti anche lui, asciato da ragazzo. Tra i due c'è un bel rapporto. A volte si all'erano insieme. L'hanno fatto anche due settimane fa. 40 minuti intensi sul campo centrale di Wimbledon con foto ricordo. E la promessa di rivedersi in semifinale. Promessa mantenuta. Quando il serbo vinceva il primo slam, era il 2008. Sinner non aveva ancora preso in mano una racchetta. Da allora Djokovic ha vinto tutto. 23 slam. Unico a riuscirci. 38 master mille. 389 settimane. Passate da numero uno al mondo, di cui 122 consecutive. A Wimbledon ha trionfato sette volte. Ottenendo 33 successi consecutivi, non perde una partita sul centrale da dieci anni. A tutto questo aggiungete anche la voglia e la possibilità di conquistare il grande slam. Nessuno ci riesce dal 1969. Numeri che confermano, caso mai ce ne fosse bisogno, che oggi per Sinner sarà durissimo. Servirà la miglior versione di sé, la sua incoscienza, la sua sana arroganza, il suo dritto spiazzante. Soprattutto il servizio potente servirà anche la capacità di gestire in momenti difficili la freddezza. Che nel tennis è fondamentale, perché lì si combatte non solo contro l'avversario, ma si lotta anche contro i propri sentimenti. È un finale di torneo che dirà se il vecchio patriarca, Nole Djokovic, riuscirà a respingere l'assalto della nuova generazione nell'altra semifinale. Infatti il ventenne numero uno al mondo, lo spagnolo Carlitos Alcaraz, sfiderà il russo Medvedev. Raggiungere la finale di Wimbledon vale quasi un milione e duecentomila sterline. Chi vincerà il torneo ne incasserà il doppio, ma quando davanti c'è la possibilità di scrivere una pagina della storia del tennis, non è più solo una questione di soldi. Un pomeriggio quindi da non perdere. Mi fermo qui, se volete continuare a seguire le notizie potete collegarvi con il nostro sito tgla7.it. Adesso vi lascio ad Eden e vi ricordo anche la nostra prossima edizione del telegiornale delle 20. Grazie per averci seguito, buona giornata e buon fine settimana. A tutti voi, arrivederci.